allora ciao ragazzi ciao a tutti questo è un nuovo video haul scusate se stavolta non trovate buste bustine e bustone ma ho fatto un piccolo mini haul per quanto riguarda l'abbigliamento allora sono stato in piazza ieri aspettate un attimo per il mio oddio mio stavate cadendo dico stavo dicendo sono stato in piazza il venerdì ovvero ieri e ho visto delle cose molto carine ho anche fatto un video vlog mini video vlog che poi tanto vlog non è comunque arriva dunque sto indossando sto vestito che poi faccio vedere in un videoclip a parte sempre inserito dentro questo video e faccio vedere altri video scusate altri vestiti che ho preso sempre inerente a questo vestito e basta ok quindi io vi auguro una buona visione ci vediamo dopo ok niente allora non so se mettere pausa a meno ma vabbè dettagli dunque sì vabbè ve li faccio vedere così uno è questo questo qua aspettate questo qua sì non fate caso alla sedia non so come mettervi aspettate vi metto qua ecco questo è il vestitino a fiori vedete con questi piccoli dettagli con queste spallucce così che sono in tulle invece qua questo è una gonna una minigonnina attaccata al al tessuto bianco con questo piccoli design in dettagli in dettagliati ecco bellissimi piaceremo a morire wow l'ho scelto io mentre altri vestiti le ha scelti mia nonna ovviamente e due le ho scelto io un altro l'ha scelto mia nonna aspettate come faccio vedere scelgo prima di far vedere quello che ho scelto io ovvio già perché io sono uno in laccio e questo è quello il vestito non so se si vedrà mai questo è il vestitino con fantasia di leopardo leopardato vedete non si vedrà mai ma io ci provo in qualche modo ecco qua questo è il vestitino con questi dettagli qua fatti un po' mesi strizzati non so come cavolo dire però questo è e questo è di dove non vedo la marca non importa e poi quest'altro sono qui ragazzi eccomi qui questo è sempre allora questa le spalline questo invece sembra tipo la borsa quando lo è un vestito fatto a mogotì con disegno arricciato con le spalline vedete già a me piace da morire piace un sacco ovviamente questo è quello che ha scelto di più mia nonna quindi questo è un regalo più affettuoso è bellissimo e da dietro è così si vede ecco già niente faccio rivedere tutto eccomi e basta ragazzi era un breve video per farvi vedere che ho acquistato non mi chiedete il prezzo perché non me lo ricordo però quasi tutti questi se ne erano costavano sulle 5 euro non di più ce n'era uno da 35 ma ho scelto di prendere questi da 5 euro ok niente ragazzi questo è quanto fatevi voi conti di quanto speso perché questo 5 questo 5 e quest'altro idem 5 euro quindi tutto quanto è vedetelo voi fate voi i calcoli perché perché sì ragazzi mi è piaciuto un botto e wow top niente ragazze questo è quanto a presto un bacio